Buonasera da Gianluca Stragesi. Iniziamo con la cronaca affrontando il problema dell'inquinamento marino a costa che ormai da giorni scombusta la popolazione e fatta intervenire d'emergenza alla protezione civile. Ora passiamo all'altra anestesia, passiamo al gossip, mancano pochi giorni al grande evento, il matrimonio di Tommaso Strange e Selina Russo, la nostra inviata Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Costa City, abbiamo la mamma dello sposo, signora come si sente? E' emozionata e impegnata. Come vanno i preparativi? Vanno bene, prepariamo. Un auguro agli sposi? Mi auguro tanti che hanno tanta fortuna. Ok, la ringrazio signora, buon lavoro. Sera da Costa Stritta, abbiamo il padre dello sposo in esclusiva, come vanno i preparativi? Bene, bene. Facciamo gli auguri agli sposi? Sì, tantissimi. Tantissimi auguri anche dal papà dello sposo? Sicurissimo. Abbiamo anche lo zio dello sposo, vediamo, signor Giuseppe, cosa fa di bello? Annaffiamo i fiori. Ah, bene, bene, bene. E prepariamo il giardino? Sì, certo, il giardino, sì. E facciamo gli auguri anche agli sposi? Tantissimi auguri agli sposi. Sera da Costa City, ecco a voi una vicina di casa dello sposo, nonché cugina, Alessandra. Buonasera, sono Alessandra, un'amica di infanzia di Tommaso. In questo giorno vorrei vorrei dare un messaggio agli sposi, mille auguri di felicità di una lunga vita insieme e soprattutto ricordare che Tommaso è un uomo stupendo, un ragazzo meraviglioso, un grande amico, un compagno di giochi sin da piccoli. Siete cresciuti insieme? Siamo cresciuti insieme, abbiamo riso, è stato vicino a me in tanti momenti della mia vita. Gli faccio i migliori auguri a entrambi e do il benvenuto all'Ina in questa piccola comunità. Auguri! Grazie Alessandra! Buonasera! Sempre Costa City! Ecco la nostra vicina Angela. Cosa ci racconti Angela? Ciao Patrizia, io come sapete sono la cugina di Tommaso, siamo cresciuti insieme. Che dire di Tommaso è un tipo imprevedibile, solare, simpatico, esuberante, non si è mai al sicuro quando si è con lui, però nel senso scherzoso. Poi è una persona molto affidabile, una persona su cui si può sempre contare, che c'è nel momento del bisogno. Quindi lì ne hai fatto sono tredici e tanti auguri agli sposi per una lunga e felice vita insieme. Ok, grazie Angela. Anche la zia di Tommaso, zia che sta cucinando di buono. Facciamo gli auguri anche agli sposi, vero? Sì, al mio caro nipote Tommaso che è stato come un figlio, ha cresciuto con i miei figli, al quale gli voglio tanto bene, anche se nella vita dalle volte si sbaglia, però il bene resta e l'affetto. Vi auguro un bene di una felicità immensa e che sia sempre come questo giorno. Ok, va bene. Emozionante, zia. Grazie, zia. Buonasera, da Tommaso Stranges. È iniziato il conto alla rovescia al matrimonio dell'anno. A Costa si respira il profumo di fior d'arancio. Manca pochissimo e Costa darà il benvenuto ad una nuova famiglia. Vediamo le interviste raccolte dai nostri inviani. Buonasera, siamo qui in diretta da Casa Stranges e i nostri vicini che faranno gli auguri agli sposi. Auguri agli sposi, a Tommaso, a Lina, ai familiari, a tutti quanti. migliori auguri, un buon matrimonio e tanta felicità. Gli auguri ve li faccio volentieri, però vorrei ricordare al carissimo Tommaso tutte le volte che mi ha chiuso sotto il sottoscana e alla volta che mi ha fatto buttare gli svaroschi dal balcone affinché mio padre mi dicesse di sì su un qualcosa. Tanti auguri e benvenuti a Costa. Abbiamo anche i nostri vicini, i vicini di Tommaso. Vediamo, zia Rosina e zio Venita. Io ci auguro tanta fortuna a sti sposi, tanta 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 e speriamo che Lina fra noi si trova benissimo alla frazione Costa e ci auguro tante cose belle e figli maschi. Grazie. Zio Venita, vuoi dire qualcosa anche tu? È la stessa cosa, domenica si sposa a Tommaso, ci auguro tanta felicità, io a Tommaso ci tengo tanto e auguro che la compagna viene fra noi ed è la benvenuta. Grazie di venita, grazie di Rosina. Buonasera a tutti da Emanuele Stranges dall'edizione Flash del TG2. Passiamo immediatamente le notizie in prima pagina, dalla grande metropoli londinese alla stragrande metropoli confrentese. Infatti dopo le nozze di William e Kate avremo le nozze di Tommaso Stranges e Lina D'Urzo. Lina alla nostra inviata Patrizia Stranges. Ecco un altro vicino di Tommaso, signor Antonio. Del compari Tommaso direi. Tanti auguri per Tommaso e Lina, noi lavoriamo come vedi qua, quindi gli auguri sotto forma di lavoro. Eh va bene. Tutto qua. Grazie mille, è nostro amico Natale. Natale fai gli auguri a Tommaso e Lina. Aguri a parte di Natale. Gli auguri agli sposi. Un augurio sincero con affetto immenso a Tommaso e Lina. Benvenuta Lina nella nostra famiglia. Siamo felici di averla con noi e noi siamo felici di fare parte di questa famiglia dell'agosto. E gli dice matrimonio del domenica. Ah grazie. Bruno? Tanti auguri. Sono qui con il nostro amico di Costa che farà gli auguri. Vai. A Tommaso e Lina. Ok grazie ad Alessandro. Siamo da Costa City. Abbiamo la cugina di Tommaso. Non è colpa mia se sono la cugina. Comunque volevo fare gli auguri a Tommaso. Un bacio. E come ti dico sempre io. Auguri a figli e femmine. Vediamo cosa dice un altro cugino. Auguri a Tommaso e a Lina. E auguri ai figli maschi. E Gio Pasquale? Auguri a Tommaso e a Lina e grande felicità. Grazie mille. Gio Finifo? Ma è un'unica che si può fare con la casa mia. E perché? Certo. E non te? Sì, grazie. Ma c'è te lo te? Io ho un mondo di bene, di felicità e mi ha sottato la saluta. Grazie. Scusami. Scusami. Zia Rosina. Un auguro profondo a Tommaso e a Lina e un bene tanto. Grazie zia. Gio Finifo è commossa. Non so che dire. Tanti auguri a tutti. A tutti. Prima a tutti risposi eppure a tutta la famiglia. Grazie mille. Grazie a tutti a voi. Buonasera da Costa Street. E tra voi le vicine di casa di Tommaso. Ciao. Bruna e Rosina. Ciao. Noi facciamo gli auguri a tutte e due. Un benvenuto a Lina da buon vicini. e speriamo che abbiano una buona fortuna. Augurami agli sposi. Vi auguriamo una bellissima vita insieme. E tanti auguri anche da papà che non è qui con noi, però è vicino. Grazie. Buonasera da Costa City. Ecco a voi. Fina, Fina. Cosa vuoi dire agli sposi? Tanti, tanti auguri. Una buona partenza, tanta felicità. E un benvenuto per esempio a Lina Costa. E auguroni, auguroni. Grazie Fina. Niente. Buonasera da Fernite Street. Abbiamo le due zie dello sposo, zia Rosina e zia Norina. Zia Rosina. Io sono la zia di Tommaso. Auguri agli sposi, a Tommaso, a Lina. Benvenuta a Lina in famiglia. Speriamo che vi volete bene per cento anni. E va bene, vediamo a zia Norina cosa ci dice. Zia Norina. E niente, auguro tante felicità, tutti e due. E da carissimi i nipoti. Aguri. Aguri. Grazie, zia Norina. Buonasera da Costa Street. Cari sposini, vi è piaciuta la sorpresa? Spero di sì. Io devo ringraziare per le iniziazioni di questo video Gianluca, Emanuele e Tommaso, seratronie tecnici al lavoro, e tutta Costa. Costa si è impegnata e ha contribuito all'iniziazione di questo video con gli auguri più sinceri che vi potessero arrivare sia a Tommaso che a Lina. Si dice in questo video che Tommaso è un grande uomo. Io penso che dietro a un grande uomo ci sia anche una grande donna e voi siete due persone grandi e straordinarie. Aguri. Da Costa Street è tutto. Al prossimo evento. Al prossimo evento. Al prossimo evento. Al prossimo evento. Al prossimo evento.